C'è Paolo Casalis che da ciclista appassionato, spettatore della nostra trasmissione ha detto se mi interessa io ho fatto una cosina un po' particolare, cioè i 48 tornanti dello stelvio senza manubrio di notte e allora ha detto vabbè andiamo a vederlo, grazie a Diego Rosa, grazie a Beppe Conti, grazie a tutto lo studio buon Natale a tutti, veramente grazie ai ragazzi che rendono possibile questa trasmissione vi faremo a gennaio i nomi di tutti, grazie veramente di cuore e adesso gustiamoci Paolo Casalis Finora mi è andata sempre bene, speriamo bene in seguito, la cosa più paurosa invece è che non mi fermo mai quello che mi fa un po' paura, perché per me è una continua ricerca che faccio e a volte può portarti questa ricerca, che cosa grave insomma, però non riesco a fermarmi farla morire non è essere una tragedia per me, devo assolutamente tentare di farla, non posso tirare niente ma io devo di un signor, devo animarmi, devo ok partito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti